L'associazione Familiari Vittime del Terremoto con Vincenzo Vittorini e il figlio Federico, che la notte del 6 aprile hanno perso le cose più care al mondo, ha incontrato i ragazzi delle medie della scuola Mazzini. Nei prossimi giorni sono previsti incontri in altre scuole. La dirigente scolastica Monialai ha accolto i ragazzi nella palestra con gli insegnanti. A due giorni da una data importante, l'associazione vuole continuare a portare un messaggio di prevenzione in memoria ai ragazzi, soprattutto a quelli che non hanno vissuto il sisma. Federico Vittorini, continua il vostro viaggio iniziato in realtà da sempre nelle scuole, quest'anno vi rivolgete anche alle medie. È importante portare quello che è il vostro messaggio sulla prevenzione, sulla memoria, sul ricordo? Sono temi per i quali oggi vi battete, è importante però che le future generazioni li incamerenno bene? Sì, esattamente. Abbiamo deciso di espandere il messaggio anche ai bambini che sono nati dopo il 2009, altrimenti il concetto di fare memoria rischia di andare man mano perduto. Fare memoria è importante perché non significa fermarsi a pensare solamente al lutto e al dolore, ma significa anche andare a ricercare quelle opportunità che a 15 anni del terremoto un territorio come il nostro deve e può creare.